Ciao a tutti, permettetemi di ringraziarvi, di ringraziarvi di cuore perché tantissimi di voi in questo mese hanno comprato il mio libro, La prima politica è vivere, la conoscete tutti questa copertina, ma ancora di più perché tantissimi di voi su Facebook, sul mio sito internet mi hanno mandato commenti, a volte commoventi, suggerimenti dopo aver letto il mio libro, il libro aveva uno scopo e ha uno scopo, quello di fronte al momento in cui noi viviamo di ognuno di noi e in particolare il sottoscritto di assumersi la propria responsabilità e di testimoniare che anche in un momento così difficile può valer la pena fare politica, quella con la P maiuscola e assumersi le nostre responsabilità, nel libro cito una frase che i miei figli di un film che credo anche voi abbiate visto, che i miei figli mi hanno fatto vedere addirittura tre volte, l'uomo ragno, di quando il protagonista scopre di avere enormi poteri e mentre lo zio muore, lo zio prima di morire guarda il nipote e gli dice ricordati, ha grande potere, grande responsabilità, stiamo approvando la manovra finanziaria durissima, l'ennesima manovra finanziaria durissima, dobbiamo ricordarcelo, ognuno di noi che ha la fortuna o la grazia di vivere questa responsabilità politica che ha grandi poteri, grandi responsabilità. Se per Natale lo vorrete continuare a leggere, a farlo leggere ai vostri amici e a regalarlo, certamente non farete non solo un favore a me, ma credo che mi aiuterece e ci aiuteremo a dare una grande testimonianza.